Via San Bernardo, per chi si chiedesse dove, Chiaravalle, facilissimo no? Siamo a Milano, benvenuti a una nuova puntata di Focus Periferie speciale Antichi Comuni e oggi siamo appunto nell'ex antico comune di Chiaravalle. Chiaravalle milanese, Chiaravalle milanese, proprio perché questo borgo che è rimasto sostanzialmente intatto gira attorno all'abbazia di Chiaravalle. In questo momento da qui non si vede l'abbazia ma è il simbolo, il luogo centrale che fa conoscere a tutti i milanesi Chiaravalle. Ma Chiaravalle non è solo l'abbazia, è un vero e proprio borgo, quello che una volta era un comune e qui ci troviamo proprio di fianco alla vecchia sede del comune. Alla sede del municipio di Chiaravalle milanese che aveva il suo sindaco, la sua giunta, i suoi assessori, i suoi consiglieri comunali. Quindi aveva una struttura, diciamo così, amministrativa la cui priorità era proprio questo territorio. Uno usciva e diceva chi si occupa di questo territorio? Ecco la persona che abitava qui dentro. Dopodiché nel 1923 con l'aggregazione anche degli altri dieci comuni della cintura milanese di allora è poi diventata anche una scuola questa. E' stata una scuola, attualmente da come si vede sembra in realtà poco utilizzata e invece non è vero perché diciamo che il lato A è un po' lasciato così, un po' così. Ma in realtà è ben utilizzato. Di questi edifici comunali è che quando perdono, edifici pubblici diciamo così, ma comunali in questo caso è che quando perdono la loro destinazione non c'è una sostituzione e quindi rimangono lì chiusi. Qui peraltro alcune parti più agibili, diciamo così, come anche la palestra, sono sede con regolare contratto di locazione tra le altre cose di alcune associazioni, alcune associazioni che sono Terzo Paesaggio, Abicicchia la Valle e l'Arcipessina. Infatti e quindi sul lato A magari sembra che non ci sia niente, invece del lato B dell'edificio, sul reto, entrata al giardino invece si entra in un luogo davvero interessante e importante per questo quartiere perché appunto c'è un utilizzo ancora diciamo quasi sociale, quasi proprio di utilità sociale. C'era questo ruolo diciamo così, questo servizio fatto come residenza dell'amministrazione che svolgeva un servizio civico, sociale per tutta la comunità, adesso questa continuità sociale è rappresentata da queste realtà associative che svolgono un ruolo anche abbastanza interessante ma anche in una logica cittadina perché Chiaravalle è proprio, c'è la campagna, uno esce dal corvetto, c'è la campagna e poi si arriva a Chiaravalle per cui è proprio un ambito rurale agresto. Abbiamo parlato appunto delle realtà associative che qui all'interno svolgono le loro attività una di queste è appunto l'associazione del borgo di Chiaravalle, Abicchia. Buongiorno a Tiziana Galvanini, buongiorno Tiziana. Buongiorno, buongiorno, venga qua con noi, allora Walter venga qui in mezzo tra me e Walter, così ecco proprio qua, e poi, e poi. E quindi questo appunto era quello che era l'antico comune di Chiaravalle, ora invece in mano, grazie per fortuna anzi dell'operato che fate, ha delle attività che appunto anche voi di Borgo di Chiaravalle e altre associazioni fanno. Che importanza ha mantenere questo bene appunto come un'utilità sociale, un'utilità alla comunità di Chiaravalle? È un'importanza assolutamente unica, vitale, altrimenti la comunità si spalda, insomma. Certo, dovremmo essere più attivi, più ascoltati magari e quindi di conseguenza riuscire a mettere più in pratica quelle che sono le nostre idee, insomma. ABC ha pensato sempre alla rigenerazione del Borgo, alla valorizzazione, nel frattempo è cresciuto un parco, il parco della Vettabbia. Sono state sistemate delle aree qui che adesso però pare che le perderemo, speriamo di no. Ecco, quindi è importante, ecco, questo è il punto vitale, questa potrebbe essere la piazza. Eh, infatti, come tutti gli antichi borghi ovviamente c'è un centro città, però un centro del Borgo. E noi ne abbiamo tanti. E voi avete ovviamente questa piazza, qua c'è l'abazia ovviamente. Qua c'è l'abazia, anzi senza l'abazia non ci sarebbe, anche se poi si diceva, le grange si costruivano prima, nelle grange si costruivano i mattoni e i mattoni servivano per costruire. Il famoso mattone cistercense che è particolare, no, è quello a cuneo, che si incunea uno nell'altro e rimane più legato rispetto a un classico macione. Questo scenario direi anche dal punto di vista storico interessante perché rispetto all'aggregazione degli altri comuni, Chiaravale ha delle vicende un pochettino più articolari. Un po' un ping pong. Perché appunto aggregato nel 1923, nel 1932 si dimezza perché una parte, Poasco per esempio, va nel comune di San Donato. Quindi anche questa realtà che prima aveva un certo tipo di omogeneità, chiamiamola così territoriale, ma anche comunale, tradizione, e con un certo punto, dal punto di vista amministrativo, si è dimezzata. Quindi il territorio di Chiaravale odierno, che è parte del comune di Milano, è la metà di quello che è la Chiaravale vera, perché metà è San Donato milanese. L'attuale Chiaravale che fa parte del municipio 5, quindi una parte consistente appunto della fetta, diciamo, qui del sud Milano, ma tu dicevi lontano. È lontano, sì, è una valle, una valle che ha due fiumi, da un lato c'è la Vettabbia, chiamiamolo fiume, dall'altro c'è l'Ambro, e dalla parte dell'Ambro c'è il municipio, quindi noi dobbiamo prendere tre mezzi per andare al municipio 5, se vogliamo seguire delle cose. E quindi ecco, questo è un po' per noi un dramma. Walter, questa volta forse ci troviamo di fronte all'apoteosi della lontananza, diciamo, amministrativa, no? Perché insomma, come diceva giustamente Tiziana, ti devo prendere tre mezzi per andare al municipio, chissà quanti per andare a Palazzo Marino a questo punto. No, meno, meno, meno. Ah, meno per andare a Palazzo Marino. Da 20 a 19, perché questa qui era la vecchia zona 14, tanto per intenderci. Allora, la parte di Chiaravalle è stata aggregata al municipio 5, ma in verità anche dal punto di vista viabilistico della TM, eccetera, è collegata direttamente al municipio 4, perché qui così la prima tappa che trovi è esattamente la del Corverto. E' corverto di così anche al proprio interno, anche la sede del municipio. Quindi anche queste sono state fatte delle scelte che, mentre nel 1968-69, poi non è sempre facile sistemare tutto, ma in questo caso particolare, mentre quello che ha dato origine al decentramento nel 68-69, c'era una restituzione ai territori della capacità amministrativa, proprio perché l'amministrazione si articolava con un'amministrazione policentrica. Progetto che è rimasto sempre sulla carta, sono rimaste le zone, le zone erano 20. Le 20 zone si cercò una corrispondenza con quelle che erano le strutture identitarie precedenti, quindi per esempio la zona 18 c'era Baggio, piuttosto che la zona 9 mi guarda, tanto per fare alcuni riferimenti. Con la trasformazione in 9 zone, appunto c'è stato il caso di Chiaravalle, che sarebbe logico dire ah ma è zona 4, no, invece dal punto di vista amministrativo è zona 5. Poi peraltro i municipi hanno una valenza dal punto di vista amministrativo che in termini monetari vale il 3 per 1000 e quindi uno dice vabbè che ci vada o non ci vada, si può fare anche questo ragionamento. Premesso che noi lo facciamo esattamente il contrario dicendo che la funzione amministrativa per un territorio è importantissima, altrimenti andiamo tutti a Palazzo Marino, la prima cosa andiamo a intasare Palazzo Marino, in secondo luogo Palazzo Marino ha una visibilità a cittadini, a priorità a cittadini e non arriva a Chiaravalle. Ma quando tu parli spesso di questa visibilità, non è solo la visibilità di visione o di guardare, ma di cura del territorio, giusto? Esattamente, il problema è della cura, anche perché se tu, alla fine c'è qualcuno che con le discariche abusive, c'è sempre una gestione del territorio, non pensiamo che il territorio rimanga fermo perché purtroppo nella vita umana se c'è un vuoto qualcuno lo va a riempire. Se c'è un vuoto qualcuno lo va a riempire. E qui vedi, quali sono i vuoti da riempire a Chiaravalle e che vabbè per fortuna riuscite a colmarli voi prima di altri? Eh sì, con grande fatica, bisognerebbe colmare tutto il vuoto, quello generale, perché noi cerchiamo di metterci idee, pezze, proposte, però siamo anche ascoltati perché con Municipio 5 abbiamo un ottimo rapporto, tutto sommato anche col Consiglio del Comune, insomma, no? La consigliera Tosoni, ci sentiamo settimanalmente, però avremmo bisogno proprio della linfa vitale, poi direi, no? Per rimettere insieme tutti questi pezzi che abbiamo, che sono bellissimi, sono interessanti, le idee nascono e come. No, anche perché un conto è sentirsi, un conto è gestire, perché io posso anche sentirmi con uno che non sta bene, però non sono medico, ci sentiamo tutti i giorni e poi? Ma non lo credo. Ecco, allora è chiaro che ci vuole il medico, no? Poi non parliamo anche della farmacia qui a Chiaravalle che è anche un altro film. Non parliamo del medico. Cosa è cosa? Parliamone invece, parliamone allora. Il medico non c'è, la dottoressa è andata in pensione e ha lasciato i locali che pagava per conto suo, privati, erano locali privati. MM ha messo a disposizione dei locali nelle case comunali gestite da MM, ma i medici non vogliono venire qua, perché probabilmente sotto il profilo numerico, noi del resto ci siamo abituati. Io ho tenuto il mio medico di vent'anni fa, quando sono venuta abitare qua, ci siamo abituati in altro modo. Parliamo di un buono che, quanti siete qua a Chiaravalle? Infatti più o meno? 1.100. 1.100. Sempre più o meno. Qualcuno va? Un municipio che gestisce intorno ai 160.000, credo giù di lì, abitanti, tutto quanto al municipio 5, insomma. Zona 5, credo sia 124.000. È uno dei più piccoli, pensa. Sì, sì, è più piccolo. Dal punto di vista della popolazione è il più piccolo municipio, dal punto di vista territoriale invece ha una ampia area, e Chiaravalle ne è l'esempio, agricola, verde, agricola. Ma è l'anima agricola? Rimane ancora viva? Assolutamente, abbiamo avuto in concessione dal municipio un ettaro, che è un giardino condiviso qua dietro, bellissimo, però non è visitabile, nel senso che bisogna telefonare e prendere appuntamento. Lì abbiamo sia l'orto che invece l'orto dell'anima, quindi abbiamo dei momenti di meditazione, dei luoghi tranquilli. Poi abbiamo, non lo so, c'è tutto un percorso, vabbè, religioso, curato da una persona che ci tiene molto. Ci tiene anche alle anime, quindi non c'è solo l'abbazia, ma c'è anche qualche laico che si... Ma qui insomma se... Sì, sì, ma qui... Ma se cade, si cade in piedi e bene, mi sembra da dire. Esatto, si cade bene. Però se cado, mi faccio male, c'è un problema anche sulla farmacia, cos'è questo problema della farmacia? Ma la farmacia non è una farmacia, è un dispensario, quindi il dispensario non deve aprire come una farmacia tutti i giorni. Ma il dispensario è una roba, adesso, non mi devogliano che... Ma la roba di quelle che emerge si fa nei paesi in via di sviluppo per andare a sistemare. Quale è un dispensario? Si poteva pensare di fare il salto dal dispensario a fare farmacia. C'è stato un periodo quando sono arrivata io che era farmacia, era aperta dal lunedì al sabato, non più. È aperta il martedì pomeriggio e il sabato mattina. Quindi code, poi è chiaro che anche il farmacista dice, vabbè insomma ci metto dentro quello che si può, poi ordinatemelo, io ve lo porto. Però voi capite che insomma il martedì e il sabato... Ma soprattutto, perché se io abito in un'altra zona e ho mal di testa posso scendere e prendermi quello che voglio? E invece qua, no, questo è il tema. No, tante cose, i giornali non li possiamo più comprare qua perché non c'è più il giornalario. Dove tu l'edicola? Non abbiamo più l'edicola, avevamo l'edicola, tabaccaio ha chiuso e nessuno più se l'è sentita di... Però la macchinata per le segrette c'è? No, no, no. Ah neanche quello, perché di solito almeno quello rimane. Invece no, neanche quello. Non ci sono impossibili perché... Neanche quello è rimasto. No, neanche quello. Nonostante questo... Sì, sono di importazione. Sì, sono di importazione. Facciamo quello che c'è. Nonostante questo, però fate tanto, no? Fate tanto. Sì, facciamo. Qualcosa di... Per cui proprio sei fiera di aver portato e contribuito all'interno di questo territorio? Tu e tutte le persone... Ma vabbè, io ho passato anche due anni con l'Arcipessina, nell'amministrazione, nella gestione, come presidente e abbiamo fatto un bellissimo lavoro proprio sul territorio, con gli anziani, con i bambini, con le mamme straniere e vabbè, però quella cosa lì, se avessimo avuto maggiori spazio, maggiore ascolto, forse era meglio perché adesso noi abbiamo un buon rapporto con il Municipio 5, ma i precedenti municipi è stato un po' più difficile. Comunque sono fiera di aver mosso le acque. Abbiamo rimosso tonnellate di rifiuti, tonnellate, in tutto il circondario. E adesso non so se andremo a vedere. E' veramente lì, vabbè, poi è passato a un privato e c'è veramente una meraviglia. Potrebbe essere la famosa terza piazza di Chiaravalle, una è qua, una è quella di là e una qua. Insomma, sì, sono fiera di aver contribuito a muovere le acque e la nascita di tante vostre. Scusate, volevo chiederti una cosa, infatti, volevo chiederti proprio in quale... Bravo, proprio per questo. Invece vorrei, prima di chiudere, ritornare sul tema di questo che abbiamo alle spalle, il Comune. Ci sono le associazioni, tutto funziona bene, anzi, magari se si dassero anche una manata di vernice davanti non sarebbe male. Le l'avevamo data. Ecco, no, no, non voi, no, no, non voi. Il proprietario che sappiamo essere il Comune di Milano. Piccola polemica a margine, la spuso solo io. Però in realtà c'è qualcosa che potrebbe cambiare. Allora, innanzitutto, il tema è che alcuni addirittura edifici comunali ex sede di municipio, il Comune li ha messi in vendita. E quindi anche l'ex municipio di Chiaravalle sta correndo questo rischio, assieme a quello ormai inoltrato di Crescenzago. L'altro tema che pongono anche gli abitanti di Chiaravalle è, ma scusate, se si parla di città a 15 minuti, di servizi a 15 minuti, se diciamo che uno degli elementi qualificanti delle proprietà comunali dove dovrebbero inserire i servizi, se lo vendono, la città a 15 minuti che fine fa, punto di domanda? Ecco, questo qui è un elemento di riflessione che forse può portare anche a una. Ora, utilizzando questa occasione del centenario, il centenario non è un fatto innanzitutto di conservazione ambientale, c'è un fatto molto semplice dove l'amministrazione comunale di allora è stata completamente riorganizzata e quindi le amministrazioni territoriali sono state eliminate. La scelta di 100 anni fa sulla Grande Milano, vista da oggi, possiamo dire che ha avuto tutta una serie di benefici. Se lo vediamo dall'altra parte, dobbiamo dire che ha formato tutta una serie di vuoti. Questi vuoti cercarono di colmare, appunto, con l'introduzione del decentramento amministrativo nel 68-69. Sono rimasti lettera morta. Ecco, il centenario è per rendere esecutivo il regolamento del 1977. 87, tanto per intenderci, non c'è nulla da inventare, c'è magari da aggiustare, però ci deve essere qualcuno che ha la possibilità gestionale di prendersi cura di queste cose, al di là della telefonata interessante dove non siamo proprio abbandonati, però va bene, non siamo abbandonati, ma poi chi è che interviene? Ecco, questa è la domanda, questa è la risposta, speriamo di poterla dare prima o poi in una delle future puntate di Focus Periferie. Prima di chiudere, ricordaci un po' le coordinate per sapere di più anche sull'associazione Borgo di Caravalle. Certo, ma sì, fondata nel 2006, nasce dalle ceneri del comitato di quartiere, che era molto attivo per dire ha ottenuto la sistemazione del passaggio a livello con un passaggio laterale, ha ottenuto la farmacia, ha ottenuto tante belle cose. Noi abbiamo ripreso il loro statuto, l'abbiamo chiaramente applicato agli anni che sono arrivati. Ci sono arrivati dei progetti bellissimi in questi anni, li abbiamo visti nascere, ma sulla carta, ahimè, e non nella realtà. Purtroppo nella realtà magari vediamo che qua costruiscono delle case e nessuno sa chi ha dato l'autorizzazione. Queste purtroppo sono le cose... Ha dato il comune di Milano, ma... Ma chi? Ma, vabbè, domanda. Questo è un'altra tema interessante. Il comune di Milano non esiste. Eh no, qualcuno aveva firmato delle carte, come si dice. Ricordami invece che qui dentro c'è anche una scuola, giusto? C'è stata una scuola elementare. Ok, adesso c'è quella che mi chiamate la scuola del pane. Adesso c'è la scuola del pane, Longoni, il panificatore milanese così bravo che fa queste ricerche sui grani antichi. Una parte di grani antichi è stata anche messa a Vaiano Valle, che è un territorio tra qua e il vigentino. Non so se sabato partirete proprio da lì. E quindi, ecco, la scuola del pane hanno aderito giovani, ma anche persone che si vogliono, come si dice, ridisegnare un'attività lavorativa. Quindi è una cosa di estremo valore. Ed è una cosa magari da tenere qua io da anni che ci pensavo a questa cosa. Che è legata a Terzo Paesaggio. Che è però legata a Terzo Paesaggio, che è un'associazione prettamente culturale. Sono giovani, architetti, dams, insomma, anche abbastanza specializzati. Qualcuno dice che fanno delle cose poco... Sì, in effetti è vero, sembrano poco pratiche, però... Serve anche quello. Serve, assolutamente. Per tenere vivo poi la luce. Insomma, poi la scuola del pane mi sembra quanto pratica. La scuola è molto pratica. Esatto, bisognerebbe un po' a volte andare a vedere, veramente, leggere fino in fondo. Favere, di non fermarsi ai titoli. Tiziana, grazie mille davvero, grazie delle tue informazioni e grazie anche del lavoro che hai fatto qui a Chiaravalle per tenere vivo questo antico borgo, anzi, ricordiamoci, è meglio dire antico comune. Antico comune perché appunto un conto è un borgo che è senza amministrazione. Un conto è un comune che può essere ancora più piccolo di un borgo, però ha la sua amministrazione. Ecco, Milano ha bisogno che queste nove, e noi diciamo otto dal punto di vista periferico, amministrazioni ipotizzate che andiamo anche a votare ogni cinque anni assieme al sindaco di Milano e la giunta, abbiano la possibilità di fare il compito per cui sono votate e sarebbero richiamate dall'introduzione del decentramento. Lettera morta per 50 anni e passa. Grazie mille allora a Tiziana Galvanini, associazione Borgo di Chiaravalle, grazie anche a te Walter come sempre, ci rivediamo nel prossimo comune, sempre per appunto il ripercorrere appunto questi 11 comuni che nel 1923 sono stati annessi o comunque diciamo inglobati quasi, o spinti all'interno del comune di Milano. Ci vediamo quindi nel prossimo comune.